buongiorno su minecraft adesso prendiamo un mondo dovrebbe essere ok questo l'ho trovato no ma il lucro non l'ho partecipato ok qua è per salire sul tetto guarda ecco quel tetto che puoi fare così dove è la notte? è la luna è notte altro tramonto è tutta l'arangione è tutta l'arangione è tutta l'arangione è tutta l'arangione apprezzo è tutta l'arangione è tutta l'arangione tanto perché voglio fare lì quello ecco in quel modo un po' un attimo vado a dormire adesso se io dormo appena io sto lupino di sopra vabbè sei mia sorella però non c'è perchè il dento si fa in quel modo un po' di denti un po' di denti un po' di denti quindi se noi vogliamo qui dal tetto siamo a uno due tre aspettate un attimo che levo la pioggia ok eccoci tornati e adesso è tornato con i tempi perciò vedere che vedo nel lento dovrebbe essere io qua il buco che ho fatto prenderlo ecco è bello profondo no perchè tanto là c'è praticamente la zona è lento io lo faccio così perchè sono morto no io l'avevo fatta aspetta faccio di nuovo il compito il compito il compito sa non è è qui è dipendente il compito Grazie. Grazie. Allora qua sono soppane così... Luda, vieni un attimo! No, non credo! Niente, sono riusciti a farlo con un blocco sopra. Grazie. Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti Grazie a tutti